Un silenzio pesante cala sulla notte, mentre le luci soffuse di Palermo a Buenos Aires gettano ombre oscure sui muri di un hotel di lusso. Liam Payne, un tempo il ragazzo d'oro delle folle urlanti e dei palchi scintillanti, si ritrova solo, intrappolato tra le mura di una stanza che racchiude i suoi demoni. Le voci di un passato tormentato, gli abusi di sostanze, le relazioni rotte e l'incessante pressione della fama lo hanno trascinato in una spirale discendente. Il terrore del giudizio e la disperazione e un senso di inevitabilità permeano nell'aria. Poi un urlo muto nel vuoto, il corpo di Payne viene ritrovato spezzato da una caduta tragica, la stanza segnata da resti di sostanze e caos, raccontano una storia di un tormento che solo in pochi hanno potuto vedere, ma che in troppi avevano ignorato. Il mondo che lo aveva venerato come un idolo, ora guarda con orrore la fine di un'anima persa, troppo giovane per essere consumata dal peso di una vita sotto i riflettori. L'incubo della fama ha reclamato un'altra vittima, Liam Payne, ex membro degli One Direction, è morto il 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, da circa 14 metri, nel quartiere di Palermo di Buenos Aires, Argentina. Vediamo che cosa è successo. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Oggi, oggi lutto raga, oggi lutto perché Liam Payne, uno dei membri della celeberrima famosissima band degli One Direction, purtroppo è morto. Io personalmente non seguivo gli One Direction, c'è qualche canzone che adoro come Story of My Life che è bellissima, però comunque chiaramente inevitabilmente li conoscevo perché hanno avuto un successo globale enorme, non so se vi ricordate le Directioner, le fan dei One Directioner, purtroppo è successa la tragedia. Infatti le autorità hanno confermato che Liam Payne, 31 anni, ha subito gravi traumi in seguito alla caduta ed è morto sul posto. La polizia ha trovato la sua stanza in uno stato di caos e si indaga, si sta continuando ad indagare sulle circostanze della sua morte. Al momento dell'incidente Payne si trovava in questo quartiere chiamato appunto Palermo, questa zona di Buenos Aires chiamata Palermo in Argentina ed era lì perché si era recato in Argentina per il concerto di un altro membro della band dei One Direction, cioè Naya Loran e poi ha visto anche il concerto di Paul McCartney. Questa diciamo è la notizia, quindi purtroppo lui è caduto dal balcone di questo hotel da un'altezza di 14 metri e purtroppo è morto. Adesso ripercorriamo tutto quello che sappiamo e poi cerchiamo di capire alcuni motivi, cerchiamo di ricollegare un po' tutto, quindi partendo da quello che è successo e tornando un po' indietro. Alla fine del video vediamo anche un po' la sua biografia anche per rendergli un po' omaggio, insomma è pur sempre un ragazzo di 31 anni, cioè praticamente aveva la mia età, un anno in meno, che è morto tragicamente. Bene, ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Cominciamo partendo dalle ore prima dell'incidente nell'hotel. Quindi abbiamo detto che Liam era a Buenos Aires per il concerto di Naya, era in città pensate da ben due settimane perché l'obiettivo iniziale era quello di stare pochi giorni, ma poi lui si è innamorato di Buenos Aires e ha deciso di fare il turista e di rimanerci per queste due settimane. All'inizio era insieme alla sua ragazza Kate Cassidy fino a due giorni prima dell'incidente. Sappiamo che lei se ne è andata due giorni prima dell'incidente perché ha pubblicato sui suoi social media un video vlog in cui appunto raccontava il suo rientro negli Stati Uniti dicendo che erano state due settimane di vacanza molto belle però aveva bisogno di rientrare perché era già da troppo tempo che era lontana da casa, quindi doveva rientrare. Quindi Liam rimane da solo in hotel. Ci sono infatti diversi video che stanno girando su TikTok di alcune ragazze che erano andate sotto l'hotel, si sono fatte le foto con lui, lui sembra abbastanza allegro, è molto gentile con loro, si fa le foto, fa gli autografi, quindi sembrava abbastanza normale. Però a un certo punto, il 16 ottobre, arriva questa chiamata della polizia alle 17.01. 9 e 11, dove è la emergencia? Ciao, ciao, buongi, siamo del hotel Casasur Palermo, Costa Rica 6032. Che succede nel luogo, signor? Eh, bene, abbiamo un huestet che sta soppeggiato di droga e di alcol, e, quando sta consciente, sta rompendo tutta la habitazione e, bene, necessitiamo che mandi a qualcuno, per favore. Bajo de scettos di alcoli, è che profe, non è il suo, signor? Si, correcto e necessitiamo che ci sia qualcuno urgente perché, bene io non so se corre il rischio la vita del Wester è stata in una abitazione che ha il balcone e, bene, stiamo un po' con temore che abbia qualcosa che le ponga in rischio la vita o è un hotel di vivienda No, no, è hace 2 o 3 giorni che sta qua Comprendo, non saprei nessun dato perché non puoi ingressare, no? Notificiamo che sia il personale di esame anche Il manager dell'hotel ha chiamato alle 17.01 la polizia segnalando che Liam Payne era in uno stato di alterazione probabilmente dovuto ad alcol e droghe e stava anche rompendo gli oggetti dentro la stanza e durante la chiamata ha espresso questa preoccupazione del fatto che Liam avesse il balcone in stanza e che quindi era pericoloso. La chiamata ad un certo punto si interrompe perché si perde la linea e poi vengono di nuovo richiamate le autorità e il manager chiede se effettivamente la polizia stia arrivando e quindi se i soccorsi insomma diciamo sono partiti questa chiamata ha generato alcune speculazioni proprio per il fatto che il manager segnali subito il balcone cioè lui dice infatti è in uno stato alterato c'è il balcone pericoloso paura che si butti quindi molte persone hanno appunto fatto questa teoria speculativa che però non trovano diciamo non c'è conferma sul fatto che in realtà Liam al momento della chiamata fosse già caduto però che l'hotel per salvaguardare la propria reputazione diciamo abbia chiamato la polizia dicendo facendo finta che non fosse ancora caduto non c'è appunto una diciamo una conferma di questa cosa è chiaro che io immagino che comunque se tu vedi una persona che è in un stato alterato palesemente sotto sostanze probabilmente chissà magari a loro non è la prima volta che succede ne avranno viste di ogni forse in questi anni o comunque ti viene il pensiero di dire occhio perché c'è il balcone se questo c'ha qualche episodio psicotico allucinogeno quello che sia si può effettivamente buttare quindi non è necessariamente detto che fosse già caduto perché il manager ha messo diciamo il puntini sulle i per quanto riguarda il balcone potrebbe essere come non potrebbe essere però comunque è una teoria diciamo speculativa la polizia è arrivata sul posto dopo sei minuti alle 17.07 ma Liam purtroppo era già caduto dal balcone infatti le autorità ritrovano il corpo di Liam per terra e chiamano la SAME cioè l'assistenza medica d'emergenza infatti segnalano un maschio caduto dal terzo piano infatti lui è caduto dal terzo piano come abbiamo detto prima a un'altezza di 14 metri secondo la Nation che è un giornale argentino Liam era sceso prima dell'incidente nella hall dell'hotel in uno stato visibilmente alterato e i membri lo staff diciamo dell'hotel lo hanno invitato a tornare a calmarsi e a tornare in camera e inoltre gli stessi ospiti dell'hotel delle camere adiacenti hanno sentito lui che all'interno della stanza non solo urlava quindi aveva questo tono di voce molto alterato ma sentivano anche dei rumori forti quindi probabilmente lui che stava rompendo degli oggetti infatti probabilmente sia lo staff o questi ospiti hanno poi avvertito il manager che poi ha chiamato la polizia il rapporto preliminare dell'autopsia rivela che il cantante è morto per lesioni multiple emorragie interne ed esterne dovute alla caduta inoltre i forensi indicano che non ci sono segni di lesioni che facciano pensare all'intervento di terze parti cioè vedendo il corpo hanno visto che lui non presentava magari dei lividi sulle braccia quindi che non è stato qualcuno che lo ha spinto e lui che ha cercato di fare resistenza e quindi si è lesionato il corpo tra virgolette passatemi il termine profano è pulito quindi si esclude la pista omicidiaria inoltre c'è un altro dettaglio importante perché anche se non è stato reso pubblico il rapporto tossicologico allora raga scusate le condizioni pietose ma ci sono degli aggiornamenti è uscito l'esame tossicologico quindi ve lo riporto qui praticamente nel sangue di pain sono state trovate tracce di diverse sostanze stupefacenti tra cui scusate la censura crack benzodiazepina e varie varie altri oppioidi e sostanze psicoattive la cosiddetta cocaina rosa allora in realtà non è la coca rosa spesso cioè viene chiamata così in america però in realtà si chiama to see be ed è un stato ed è una droga che è stata prodotta in colombia che gira già da diverso tempo ed è chiamata la droga dell'alta società perché è la più costosa sul mercato diciamo ed è completamente chimica ha un mix tra gli effetti dell'lsd e dell'mdma ha tutte insomma è fatta anche con gli scarti un po' di questi allucinogeni quindi insomma e praticamente questa è una sto leggendo su un sito appunto colombiano che si chiama istituto castellao che praticamente ha degli effetti allucinogeni infatti dice alterazione dei sensi principalmente a livello visivo e a livello auditivo aumento della coscienza dice stimolazione mentale cambio di stato d'animo che va dall'entusiasmo all'introspezione alterazione della percezione del tempo e dello spazio in dosi elevate tra i 24 e i 40 mg c'è una maggiore presenza di effetti allucinogeni quindi probabilmente il fatto che l'iam sia caduto dal balcone è stato dato da questa droga perché ti dà degli effetti molto cioè ti dà proprio degli effetti allucinogeni dove tu immagini le cose evidentemente non ha visto il balcone potrebbe essere però comunque nonostante si chiami cocaina rosa non c'entra niente con la coca raga questa è tutt'altra sostanza si pensa che l'iam durante la caduta fosse in uno stato di semi incoscienza perché non ha provato a proteggersi la testa perché che cosa succede anche se tu decidi di buttarti nel momento in cui stai cadendo al suolo l'istinto primario l'inconscio diciamo l'istinto di ognuno di noi fa sì che noi cerchiamo di proteggerci quindi o di rannicchiarci o di proteggerci la testa in questo modo mentre lui è probabilmente così non ci dicono che poteva anche salvarsi riportando lesioni molto gravi però avrebbe potuto salvarsi ma lui si è direttamente caduto senza neanche cercare di proteggersi quindi probabilmente era in uno stato di semi incoscienza e questo da un lato esclude anche la pista del suo figlio diciamo ci sono dei dubbi nel senso che lui si presume che lui avesse ingerito una grandissima quantità di sostanze unite con l'alcol a prova del fatto che sono state poi ritrovate dentro la sua camera perché poi nella sua camera d'hotel sul tavolo sono state ritrovate queste sostanze tra cui sostanze allucinogene chiamina, cocaina, in più l'alcol in più c'era un televisore rotto a conferma di quello che dicevano gli ospiti che sentivano dei forti rumori provenire dalla camera quindi lui a un certo punto fa questo mix si trova in questo stato alterato diventa psicotico inizia magari anche ad avere delle allucinazioni e poi cade dal balcone il fatto è questo però che appunto come vi dicevo prima mentre cadeva era in uno stato probabilmente di semi-incoscienza perché non ha cercato di proteggersi ma manca un passaggio cioè se lui è in uno stato psicotico si avvicina al balcone che cosa è successo? cioè ha perso conoscenza e quindi è caduto per questo si parla di morte dubbia nel senso che non ancora si è stato in grado di ricostruire perfettamente quello che è accaduto in quella camera fino appunto alla caduta cioè in che momento lui è diventato incosciente ed è poi caduto dal balcone quindi si esclude sia l'omicidio che il suicidio probabilmente si tratta di incidente ma si parla ancora di morte dubbia perché non si riesce bene a capire a ricostruire diciamo questo punto cioè il momento in cui lui è caduto in che stato era ma se era incosciente era già vicino al balcone quindi bisogna aspettare un po' l'esame tossicologico e le varie indagini della polizia che comunque stanno continuando altra cosa sono stati arrestati due membri dello staff dell'hotel che probabilmente gli hanno procurato le sostanze si dice attraverso questa scatoletta di sapone dub la saponetta per le mani che quindi gliel'hanno passata loro e questo mi fa pensare ad una cosa cioè lui era pulito dal 2023 una persona che ingerisce un così grande quantitativo di sostanze probabilmente in realtà lo fa in un momento in cui appunto in questo caso di difficoltà come vedremo tra poco perché è una ricaduta cioè a me quello che sembra fatemi sapere anche voi nei commenti a me quello che sembra è stata una ricaduta lui ha esagerato ed è successo cioè a me è sembrato questo capito cioè non si tratta di ok lui era pulito poi ci è ricascato e alla fine è arrivato passatemi il termine terrificante il colpo finale no cioè secondo me lui era pulito fino a quel momento e poi ha avuto una ricaduta e si è fatto procurare dallo staff dell'hotel di tutto e di più cioè a me è sembrato questo comunque i due membri dello staff dell'hotel sono stati fermati e arrestati dalla polizia perché Liam era un ex tossicodipendente non ha mai nascosto il suo abuso di sostanze infatti nel 2021 Liam ha rivelato di aver raggiunto un punto particolarmente basso nella sua vita dicendo di aver abusato di alcol per un periodo prolungato e di non riuscire a trovare un equilibrio nella sua vita ha descritto come la dipendenza abbia peggiorato la sua salute mentale portandola a momenti difficili in cui si sentiva sempre perso disconnesso dalla realtà questo nel 2021 e nel 2023 però aveva annunciato di essere sobrio da sei mesi dopo aver passato cento giorni in una clinica di riabilitazione purtroppo evidentemente ci è ricaduto allora probabilmente una di queste pasticche da prescrizione che sono state trovate nell'hotel probabilmente erano per il disturbo bipolare che gli era stato diagnosticato perché infatti lui ha rivelato in un'intervista al Desan che gli era stato diagnosticato come anche conseguenza delle pressioni della fama infatti lui dice rivela uscire e indossare questo sorriso felice nella mia insomma sul mio viso a volte sembrava come se mi travestissi quindi cantare le canzoni salire sul palco essere sempre contento farmi vedere contento in realtà era un travestimento io in realtà dentro stavo male comunque alle 18 e 10 di giovedì viene la notizia come sappiamo tutti appunto della sua morte in stanza con lui non c'era nessuno abbiamo già detto che la sua ragazza se n'era andata due giorni prima per rientrare negli Stati Uniti ma il giorno in cui il pomeriggio in cui lui è morto fino a qualche ora prima c'erano due ragazze in stanza è stata accertata questa cosa queste due ragazze sono state fermate dalla polizia loro hanno dichiarato di essere andate via da quella stanza intorno alle 15 non si capisce se queste ragazze siano due fan che lui magari aveva fatto salire in camera per divertirsi un po' o se fossero due prostitute si propende più verso le prostitute però non è certo potrebbe essere una speculazione comunque questo è quello che sappiamo però chiaramente ci sono delle domande cioè come vi dicevo prima lui nel 2023 aveva dichiarato di essere pulito quindi che cosa l'ha spinto a buttarsi a gettarsi in un abuso tale di sostanze al punto di avere delle allucinazioni e cadere dal balcone ci siamo chiesti tutti questa cosa quindi cerchiamo di ripercorrere quello che è successo nei giorni prima del tragico incidente per cercare di capire se ci fossero dei segnali quale potrebbe essere il motivo perché effettivamente qualcosa si ricollega anche ad alcuni aspetti della sua vita tra cui delle recenti polemiche allora il 2 ottobre Liam è andato a sentire il concerto di Oran il suo amico insomma ex membro dei One Direction alla Movistar Arena di Buenos Aires lì si è goduto il concerto e sappiamo che c'era perché oltre al fatto che ha pubblicato dei video sui suoi social sono stati pubblicati anche dei video in cui lui si vede ballare e cantare insomma non è passato inosservato ha attirato l'attenzione e questo all'epoca due settimane fa aveva generato però diverse polemiche perché lui è stato accusato di essere un tipo che cerca di attirare l'attenzione su di sé anche per delle recenti rivelazioni delle recenti dichiarazioni scusate non mi veniva delle recenti dichiarazioni rilasciate in un episodio del podcast di Logan Paul in cui lui aveva dichiarato che il gruppo era stato il gruppo dei One Direction all'epoca era stato formato intorno a lui quindi come se grazie a lui esisteva il gruppo inoltre ha raccontato di alcuni scontri che ci sono stati nel corso degli anni con gli altri membri dei One Direction e che addirittura in alcune occasioni quasi si arrivava alle mani quindi da questa intervista lui è uscito un po' come se fosse un po' il galletto di turno che volesse gonfiarsi come per dire One Direction sono esistiti grazie a me e questa cosa ha fatto arrabbiare molti fan l'hanno considerato molto narcisista e quindi poi quando lui al concerto del suo amico ha cercato di attirare l'attenzione ballando, cantando, saltando per farsi riprendere dai fan intorno a lui è stato accusato appunto di voler stare sempre al centro dell'attenzione però sostanzialmente questa polemica non è che l'avesse diciamo colpito più di tanto mettiamola in questo senso comunque poi il 5 ottobre lì abbiamo andato a sentire il concerto di Paul McCartney a River Plate Stadium condividendo comunque le foto dello spettacolo quindi lo sapevamo dopo il concerto fino al 13 ottobre Liam ha soggiornato al Patagones Polo Club al General Rodriguez e ha condiviso sui social l'esperienza immersiva in questa villa un po' isolata un po' messa in persa nella natura dicendo che amava Buenos Aires che era una città meravigliosa e che voleva continuare a fare il turista e infatti Liam era in compagnia della sua fidanzata poi che succede il 13 ottobre decide di prendere una suite all'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo a Buenos Aires Argentina dove è rimasto fino al momento della sua morte è probabile sicuramente che i social vengano in realtà venissero in realtà gestiti da un team però da quello che sembrava dai social non c'era diciamo una qualche avvisaglia una qualche red flag che qualcosa non andasse ecco mettiamola in questo senso quindi che cosa è successo ad un certo punto però è stata condivisa la foto di Liam davanti al pc davanti ad un computer che stava leggendo le email e al momento della lettura di una particolare email avrebbe urlato fanculo questa merda e avrebbe buttato il pc per terra da quel momento è iniziato poi il delirio perché questa cosa è successa il giorno in cui poi è morto quindi dentro questa mail ha letto qualcosa che lo ha portato a ricadere nell'eccesso e nelle sostanze e nell'alcol che cosa potrebbe essere questa mail qui è un po' una speculazione nel senso che c'è un fondo di verità però non è detto che sia stata effettivamente quella mail è più una teoria mettiamola in questo senso una supposizione che succede che Liam una volta che One Direction si sono presi la pausa la famosa pausa indefinita nel 2016 ha iniziato la sua carriera da solista e ha firmato con la Capitol Records ma secondo quanto riportato dal Daily Mail si vociferava che l'uscita del secondo album di Liam fosse stata posticipata perché in realtà la casa discografica volesse silurarlo cioè volesse chiudere il contratto e dirgli ciao e arrivederci si dice che Liam lo sapesse già da qualche tempo giorni prima del suo incidente ma molti hanno teorizzato che in realtà quella mattina abbia letto una mail riguardante proprio questa cosa o un fulmine a ciel sereno della Capitol che gli scrive e mi dispiace ma il contratto lo rescindiamo oppure magari una conferma cioè che magari prima anche lui aveva paura di questa cosa e poi ha avuto la conferma dalla casa discografica si è arrabbiato perché capite che comunque essere silurati per un cantante di quel livello da una casa discografica significa perdere milioni e probabilmente anche la sua carriera quindi magari ha avuto una ricaduta si è buttato da purtroppo ex alcolista e ex tossicodipendente nelle sostanze purtroppo può succedere che quindi poi si è scoppiato tutto il delirio di cui abbiamo parlato prima a questo punto viene in mente un'altra domanda perché la casa discografica ha chiuso con lui se lui è un ex membro dei One Direction e la carriera da solista comunque gli stava andando molto bene e qui dobbiamo fare un passo indietro perché Liam è stato investito da una serie di polemiche recenti le quali diciamo avrebbero probabilmente portato alla sua cancellazione per lo meno è quello che si diceva insomma che cosa intendo parliamo dello scandalo con Maya Harry dunque abbiamo già detto poco fa che appunto Liam dopo le dichiarazioni fatte da Logan Paul dicendo i One Direction esistono grazie a me aveva già fatto storcere il naso a molti ma poi è arrivata la polemica con Maya Harry praticamente nel 2022 la relazione tra Liam Payne e Maya Harry durata due anni finisce e parte uno scandalo mediatico inizialmente si vociferava che Liam Payne fosse stato infedele quindi c'erano anche le accuse di infedeltà del non rispetto delle donne però lui ha cercato di smentire questa cosa dicendo sì io mi sto frequentando con un'altra ma noi io e Maya ci siamo lasciati da un mese quindi non è infedeltà sto semplicemente andando avanti ma la cosa non finisce qui perché Maya dopo la rottura pubblica un libro chiamato Looking Forward questo Looking Forward in realtà è una sorta di romanzo che però lei dice di essere ispirato alla sua vita quindi a eventi reali in particolare proprio alla relazione con Liam Payne infatti che cosa dice? dice che anche se l'opera è dichiarata come una fiction Maya ha ammesso che molti aspetti della storia sono tratti dalla sua vita personale infatti il libro segue la storia di Mayuri una giovane modella che si innamora di Oliver una pop star in declino che mostra molti parallelismi con Payne infatti la trama io lo leggo raga non leggo la trama perché non l'ho letto il libro quindi devo affidarmi a quanto ho trovato online comunque la trama esplora dicono alcuni temi delicati come la violenza domestica l'abuso di sostanze le dinamiche di potere all'interno di una relazione uno degli episodi più significativi del romanzo riguarda la protagonista che affronta una gravidanza non pianificata un aborto complicato e che quindi potrebbe essere collegata anche alla sua storia con Liam Payne e il personaggio di Oliver che appunto dovrebbe essere Liam diciamo rappresenta la discesa da una celebrità pulita e sorridente ad un uomo imprevedibile tormentato dalle dipendenze e dai suoi demoni interiori quindi questi dettagli sembrano rivelare alcuni aspetti di quello che è in realtà Payne al di fuori delle telecamere diciamo al di fuori della vita pubblica inoltre si parla appunto cioè il personaggio di Oliver ha anche problemi di abusi di alcol e di sostanze quindi sembra un po' uno dice sì è una fiction però in realtà hai solo cambiato i nomi hai raccontato quello che ti è successo quindi chiaramente quella pubblicazione di questo libro ha generato un forte impatto nell'immagine pubblica di Liam e la gente aveva iniziato a vederlo sotto un'altra luce molte fan si stavano allontanando da lui proprio per questo ma la situazione non finisce qui perché ad un certo punto Maya nel suo account TikTok pubblica un video in cui racconta in una testimonianza di 8-9 minuti quello che stava subendo proprio dal cantante perché lei dice Liam mi stalkera continua a stalkerarmi mi chiama mi manda i messaggi tutti i giorni tutto il giorno cerca anche addirittura di contattarmi con account falsi io non ce la faccio più e soprattutto cerca di aizzare le sue fan contro di me quindi utilizzare la sua fama il suo potere per mettermi le persone contro e generarmi una situazione di stress dopo queste dichiarazioni sono uscite delle dichiarazioni di alcune fan soprattutto nei forum dei One Direction ma non solo comunque hanno fatto il giro del mondo queste notizie in cui alcune fan hanno dichiarato di aver avuto dei contatti con Liam e che lui abbia utilizzato la sua posizione diciamo di superstar per manipolarle e portarle a condividere con lui delle foto compromettenti quindi questo è stato un grandissimo scandalo e proprio per questo si parla diciamo del fatto che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la casa discografica volesse silurarlo perché comunque la sua immagine è uscita molto danneggiata da questa cosa appunto che come vi dicevo prima si stava parlando anche di cancellazione ma adesso che diciamo abbiamo un quadro dell'accaduto vediamo anche un po' come vi dicevo prima la biografia di Liam Payne perché comunque è un ragazzo che è morto a 31 anni quindi insomma vediamo un pochino da dove è partito tutto chiaramente lo so già lo so che cosa stai pensando si fanno un video su One Direction ve lo dico da un anno e mezzo più o meno anche perché vedremo anche dalle sue dichiarazioni che comunque lui parla anche della difficoltà di diventare così famosi a quell'età ed entrare nel mondo discografico quindi ne parleremo dunque Liam James Payne nacque il 29 agosto del 1993 a Wolverhampton una città nella contea West Midlands in Inghilterra fin da piccolo ha avuto diversi problemi perché lui è nato prematuramente come conseguenza ha avuto dei problemi ai reni uno dei due reni praticamente non funzionava quindi lui ha dovuto fare anche lunghe indegenze in ospedale quando era piccolo per questa motivazione all'età di 14 anni decide di fare un provino per X Factor si presenta non passa le selezioni però i giudici gli dicono torna quando sei più grande perché vediamo del talento adesso sei troppo acerbo quindi non è il caso di farti gareggiare adesso lui ci riprova poi questo nel 2008 lui ci riprova poi nel 2010 arriva ai bootcamp ma non passa comunque le selezioni ma i giudici viene in mente una cosa di mettere insieme i ragazzini che non sono arrivati diciamo al dopo i bootcamp quindi i ragazzini che sono stati eliminati per formare una band e farli partecipare come gruppo e indovinate un po' nascono così i One Direction con Naya Lauren Louise Tomlinson Harry Style Zayn Malik e Liam Payne arrivano terzi a X Factor ma nonostante non siano arrivati i primi presero già tantissima audience tantissime fan e quindi la casa discografica decise di gettarli nel mondo dello spettacolo ed è così che sono nati One Direction uno dei fenomeni globali più grandi di sempre e infatti pubblicano cinque album fanno quattro tour mondiali tra i vari premi milioni di premi hanno sette Brit Awards quattro MTV Music Video Awards sette American Music Awards più altri milioni di premi e come sappiamo quindi si convertono in un fenomeno globale fino al 2016 quando poi vi ripeto faremo un video su One Direction quindi inutile ripeterci adesso comunque nel 2016 One Direction si prendono una pausa i vari cantanti poi decidono di fare delle carriere da soliste tra cui appunto anche Liam Payne che firma con la Capitol Records effettivamente anche la sua carriera da solista va bene anche la sua carriera da solista va bene ha un sacco di fan ha pubblicato il suo singolo di debutto come solista Strip Dead Down nel 19 maggio 2017 nel mese di luglio poi sempre del 2017 ha pubblicato Get Low Bedroom Floor e poi è uscito For You che ha fatto da colonna sonora al film 50 sfumature di rosso e io questo non lo metterei tra i meriti Liam però il 15 maggio 2018 Payne ha confermato appunto il suo album da solista che sarebbe poi uscito il 14 settembre poi è stato ritardato per un po' però insomma esce anche il suo album da solista che ha tanto successo e quindi comunque la sua carriera da solista parte poi che succede pubblica diverse canzoni che avrebbero dovuto far parte del suo secondo album ma il secondo album viene più che sospeso viene rimandato diciamo ed ecco qui che ci ricolleghiamo alla fantomatica email che forse gli ha mandato la casa discografica che poi ha generato tutto questo parliamo un attimo della fama perché lui appunto essendo un ex tossico dipendente un ex alcolista ha parlato dei motivi chiaramente delle sue dipendenze e in varie interviste ha parlato apertamente delle difficoltà mentali e fisiche che ha dovuto affrontare a causa della sua fama improvvisa questo lo sappiamo succede a tutti succede a tutti inoltre c'è stata appunto anche una grande pressione mediatica ha rivelato inoltre che far parte dei One Direction benché sia grato lui di aver fatto parte dei One Direction però dice lo aveva portato a uno stato mentale difficile infatti ha dichiarato c'è stato un momento in cui non mi piacevo molto per come ero diventato non riuscivo a gestire le richieste e la pressione la fama può portarti a fare cose che normalmente non faresti non avevo nessuno con cui parlare di come mi sentivo quindi lui lascia di intendere come abbiamo già visto che anche la solitudine della fama perché il fatto di avere le telecamere H24 ogni aspetto della tua vita è controllato scusate io di nuovo in condizioni pessime ma volevo aggiungere una cosa siccome sto guardando il documentario dei One Direction di Zizas per farci poi il video ho notato che tra tutti Liam mi sembra quello che sia rimasto più colpito in senso anche un po' negativo dalla fama perché lui non fa altro che ripetere all'inizio del documentario dice nonostante la fama vorrei avere una vita normale sto cercando di avere una vita normale poi a un certo punto sono in campeggio verso la fine del documentario e lui ripete di nuovo questa cosa dice noi siamo un po' come Benjamin Button cioè prima ci viviamo al massimo queste esperienze e poi proveremo a fare una vita normale quasi come se ci sperasse e il concetto per lui di vita normale è anche quello soltanto di uscire per la sua città senza essere costantemente circondato dalle fan in più il senso di solitudine per quel poco che l'hanno intervistato traspare perché lui dice ad un certo punto chissà se io piaccio le persone perché sono famoso o se magari piaccio per come sono io come persona quindi lui mentre gli altri per quanto anche loro abbiano avuto il peso per lo meno da quello che dice questo documentario sentano il peso di non poter uscire tranquillamente e farsi una passeggiata però lui non fa altro che ripetere questa cosa mentre gli altri poi si divertono giocano scherzano dicono che comunque l'esperienza è bellissima lui invece sembra quello più colpito quello che più è rimasto destabilizzato dal fatto di non poter avere una vita normale quindi si nonostante il fine del documentario non fosse quello di far vedere un po' le loro emozioni ma semplicemente di far vedere quanto è figo essere uno dei One Direction però lui in tutte le interviste dice questa cosa anche in momenti felici lui dice ma ci pensate se avessimo una vita normale voi che cosa avreste fatto io probabilmente avrei fatto questo cioè è come se un po' lo avesse sopraffatto tutto questo successo il fatto di essere in questa gabbia dorata in cui non puoi uscire di casa perché sei proprio assalito diciamo perché quello che ho visto è proprio assalito dalle fan quindi secondo me lui ha risentito molto di questo la fama in un'età così giovane può essere ancora più deleteria della fama in età adulta perché tu da adolescente non hai le risorse per poter affrontare determinati tipi di situazione infatti ha discusso di come la fama avesse cambiato la sua vita sociale affermando non riuscivo ad uscire più come una persona normale mi sentivo come se fossi sempre sotto osservazione questo può diventare opprimente infatti ha detto che la maggior parte delle sue relazioni anche quella che ha avuto fino al 2015 con la madre di suo figlio è stata rovinata proprio dai giornali l'abbiamo visto in tante situazioni anche per esempio tra Selena Gomez e Justin Bieber se ci ricordiamo perché appunto la fama cioè il costante giudizio delle persone che entrano a far parte della tua relazione può essere deleterio con i rapporti infatti lui ha sempre avuto difficoltà ad avere relazioni durature proprio per la pressione e l'occhio del pubblico che lo guardava costantemente quindi insomma anche lui ha sofferto molto la fama nel video di One Direction cercherò di indagare di più per capire quali siano state le vere conseguenze della fama per tutti i membri del gruppo quindi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video quindi vi auguro un buon weekend ciao